Cecilia Rodriguez, gaffe a casa di Ignazio Moser, l'Argentina sbaglia vestito Come è andato il primo incontro tra Cecilia Rodriguez e i parenti di Ignazio Moser. Cecilia Rodriguez è ufficialmente entrata nella famiglia di Ignazio Moser. La sorella di Belen ha incontrato i genitori e tutti i parenti del nuovo fidanzato subito dopo la fine del grande fratello Vip. Un incontro carico di aspettative soprattutto perché almeno inizialmente i genitori del ciclista non hanno preso molto bene la storia tra i due. Questo ha spinto Cecilia a vivere il primo incontro con una certa ansia ma per fortuna tutto è andato per il meglio. Alla fine l'Argentina è stata accolta a braccia aperte dal campione Francesco Moser e dal resto dei parenti ma la stessa Cecilia non ha nascosto di aver commesso una piccola gaffe sulla scelta dell'abito. Ignazio Moser ha subito portato Cecilia a conoscere i suoi genitori. Quando mi ha portato a casa a conoscere i suoi ero piena di timori. Sono entrata e ho visto la tavola lunghissima, apparecchiata bene. Seduti c'erano mamma, papà, zii e cugini. Tutti eleganti, io con i leggings e le scarpe da ginnastica. Che vergogna! ha raccontato Cecilia a Rodriguez al settimanale Gente. Per fortuna l'ex fidanzata di Francesco Monte è una ragazza dalle mille risorse e prima di sedersi a tavola è riuscita a cambiarsi in fretta e furia. In un secondo mi sono infilata gli stivali con i tacchetti che avevo in macchina. Ho bevuto un bicchiere di vino e la tensione non l'ho avvertita più. Mi sono sentita a casa, sono stati calorosi e affettuosi ha spiegato l'ex delfina. Cecilia e Ignazio, i progetti dopo il grande fratello Vip. I genitori di Ignazio Moser dopo l'incontro con Cecilia hanno cambiato idea. . Mia madre ne è rimasta conquistata. . Si vede che non è prestata al mondo dello spettacolo, che non smania di apparire a ogni costo in video, mi ha confidato ha assicurato Ignazio. . Archiviata l'esperienza all'interno della casa di Cinecittà, Cecilia e Ignazio stanno pensando ai prossimi progetti lavorativi. . La Rodriguez vorrebbe creare una linea di abbigliamento mentre Moser è intenzionato a fare un viaggio in bicicletta insieme alla fidanzata e trasformarlo poi in un format TV. .